Per uscire dalla crisi bisogna vaccinare il maggior numero possibile di cittadini italiani ed europei. Le agenzie del farmaco di Amsterdam e di Roma e gli scienziati non devono dare messaggi contraddittori ai cittadini al fine di non compromettere le campagne di vaccinazione organizzate bene dal governo italiano e dagli altri governi.